Questa mattina si è svolta la conferenza stampa di presentazione del progetto Cibiltà Usiamo il cibo civilmente stop agli sprechi, promosso dal comune di Pomezia grazie ad un finanziamento della città metropolitana. L'iniziativa, che coinvolge a vario titolo ristoranti, alimentari, scuole e famiglie, mira a sensibilizzare sul tema dello spreco, offrendo nuove possibilità per realizzare concretamente un cambiamento dello stile di vita. Ad esempio, alle attività aderenti verranno consegnate vetrofanie di riconoscimento e family bag in materiale ecosostenibile per consentire ai clienti di portare a casa eventuali eccedenze di cibo. Sono previsti anche sacchetti antispreco da consegnare alle scuole e azioni concrete di riduzione degli sprechi nelle mense scolastiche. Ad oggi hanno già aderito oltre 40 esercizi commerciali. Per prendere parte all'iniziativa basta scaricare il modulo presente sul sito internet del comune.